Inaugurata ufficialmente a Mormanno la nuova agenzia di viaggi Traverse City World che completa l'offerta turistica del Borgo del Bocconotto. A noi è stata richiesta tanto questa agenzia, visto che comunque lavoriamo sempre con l'autobus, lavoriamo sotto magari altre agenzie, a noi ci piace tanto questo lavoro, portare in giro la gente, portare in giro i gruppi, e allora abbiamo pensato di intraprendere questa strada e di creare questa nuova agenzia. Al taglio del nastro il presidente del Parco Nazionale del Pollino, Mimmo Pappaterra, il vice sindaco di Mormanno, Paolo Pappaterra, l'assessore alla cultura e all'ambiente, rispettivamente Flavio De Barti e Giuseppe Fasano. Presidente, nuovi servizi per Mormanno ma per l'intero territorio del parco? Ma posso dire che sono veramente felice di questa inaugurazione perché questo è un po' il nostro sogno, il nostro obiettivo, possibilmente far rimanere qua i giovani per fare intrapresa e fare intrapresa soprattutto, impegnarsi in un'attività lavorativa soprattutto in un contesto legato all'evocazione di questo territorio. Tre generazioni che hanno deciso di rimanere, di investire sul proprio territorio. Ma questo è un bellissimo esempio, un bellissimo esempio di una Calabria che molte volte racconta pagine di Cronaca Nero, oggi invece stiamo raccontando un'ulteriore bellissima pagina di ragazzi giovani che restano nella nostra terra, che decidono di fare imprese, che tramandano questa impresa da padre in figlio. Questo è un esempio di imprenditorialità che noi vogliamo, che stiamo cercando qui a Mormanno, persone che rimangono soprattutto, le persone che vogliono continuare ad investire nelle piccole comunità, nonostante tutti gli indici economici ci dicono che è meglio fuggire da questa terra. Invece no, ci sono giovani che ancora investono, ci credono e ci credono soprattutto perché si trovano ingastonati in uno dei borghi, a mio avviso, più belli d'Italia, ma soprattutto all'interno del Parco Nazionale del Pollino. E' da ammirare il coraggio che queste ragazze, questi giovani hanno messo in campo per avviare questa nuova attività, a cui auguro veramente ogni bene, perché è giusto che sia così. Hanno impartito ai presenti la benedizione Don Francesco, Don Pompeo e Don Alessio. La neonata agenzia di viaggi è situata nel centro della città, pochi passi dalla bellissima chiesa Santa Maria del Colle. Offre spazi interamente rinnovati secondo gli standard. Maira, quali servizi offrirete alla clientela? Noi offriamo in primis qui per Mormanno la biglietteria autobus, che percorre tutta l'Italia e l'estero, biglietteria aerea, navale, biglietteria trenitalia, sono autorizzata. Oltre questo passiamo sui pacchetti individuali, io lavoro con tantissimi tour operator, si può vedere Alpitour, uno dei pochi viaggi dell'Air One, amo il mondo e tanti altri. La proposta dell'agenzia di viaggi Travel City World punta a soddisfare le esigenze di tutta la clientela alla ricerca di un soggiorno di piacere, alla scoperta delle eccellenze italiane ma soprattutto ad attirare turisti del borgo. L'intento è di far conoscere le bellezze di questo nostro territorio, che è il Parco del Pollino. Da anni stiamo lavorando su questa situazione, abbiamo già preparato dei pacchetti. L'ultima esperienza è stata proprio quella di una settimana fa, in cui io e un altro collaboratore di Altomonte siamo andati in Germania e Svizzera, nelle agenzie tedesche, appunto a proporre i nostri pacchetti. I nostri pacchetti significa il parco, i borghi, ma ovviamente allargandoci anche Altomonte, Cosenza e quindi diciamo la Calabria del Nord, proprio per far conoscere, ripeto, questi nostri territori. Dove vogliamo specializzarci tanto, che mi piace, oltre ai viaggi di gruppo, come ho già detto in precedenza, mi piace organizzare crociere di gruppo, portare gente insieme a me e lavoro molto con MSC, come si può vedere. Abbiamo organizzato già tre crociere di gruppo e adesso ho un'altra imminente crociera, proprio partenza il 9, con 75 persone. Abbiamo un grande staff all'interno dell'agenzia, proprio per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. All'interno dell'agenzia c'è anche un nuovo servizio. Ne parliamo con il dottor Antonio Paternosto, di che servizio si tratta? La mia attività consiste nella mediazione assicurativa, allo stesso tempo ci occupiamo di prodotti di risparmio e previdenza, e quindi si tratta di un incarico da parte del cliente affinché il broker possa trovare la migliore soluzione assicurativa, al miglior prezzo e anche con maggiori garanzie all'interno. Dottor Paternosto, si tratta quindi di una nuova figura all'interno del panorama assicurativo? Certamente, la figura del broker è una figura nuova perché ha mandato del cliente e tratta con le compagnie. La vecchia gestione delle compagnie era quella di dare mandato agli agenti che proponevano i prodotti di quella compagnia. Quindi abbiamo delle opportunità nuove anche di gestione delle diverse trattative, non essendo vincolate ad alcuna compagnia. Quindi possiamo dire che per la prima volta si fanno gli interessi del cliente e non della compagnia? Certamente, il cliente rimane il punto di partenza di questa nuova trattativa perché il broker non ha un'appartenenza, una radice, per cui è libero di trovare le migliori opportunità per il cliente, anche perché nel nostro panorama assicurativo italiano e europeo bisogna avere le opportunità di gestire qualsiasi tipologia assicurativa con un ampio spettro anche territoriale che prima forse non c'era. E in vista del Natale, delle festività di Capodanno, l'agenzia si è già organizzata? Come primo evento abbiamo organizzato un weekend nel Parco Nazionale del Pollino. Precisamente dove? L'Aino Castello. Perché questa scelta? È stato premiato il presepe vivente più bello d'Italia. Quindi una bella occasione per riscoprire il Pollino con le sue bellezze naturalistiche e paesaggistiche, ma soprattutto per vedere da vicino la natività che ha vinto il primo posto. Noi invieremo pacchetti in tutta Italia, ma se riusciamo anche all'estero. Maira, dove vi possono contattare? I nostri numeri di telefono, fisso e cellulare, la pagina Facebook, attiva sempre, sul nostro sito web. Maira, a questo punto possiamo dire viaggiamo insieme a te? Con l'agenzia Traverse City World. Sì, viaggiare, rallentando per poi accelerare. La famiglia Cosenza, da ben tre generazioni, offre l'opportunità di raggiungere mete turistiche con bus che rendono il viaggio in Pullman una scelta vantaggiosa per i portafogli, ma soprattutto confortevole. Ovviamente per essere un'azienda a passo con i tempi, anche noi abbiamo dovuto adeguarci con nuove tecnologie, a bordo degli autobus, il metodo per caricare i cellulari, che è la cosa più richiesta, oppure la connessione a internet, che è indispensabile, oltre che ovviamente tutti i sistemi di sicurezza, i quali le nuove autovetture e autobus sono dotate. Alle mie spalle, come potete vedere, c'è questa fotografia in bianco e nero degli anni 50, il primo autobus con un uomo, ed è colui che ha creato tutto quanto questo, vero Luigi? Sì, questo qua negli anni 50, dove mio nonno creò questa azienda che si chiama Cosenza Luigi, negli anni 50, anni 60, fino agli anni 70. Poi dal 79 è entrato mio papà e quindi hanno creato questa società che si chiama 3M, 3M, questo nome, viene dato da, niente, Mormanno Maremonti, perché il 79 hanno iniziato a lavorare con i servizi di linea. La prima linea che è stata effettuata è stata proprio Mormanno Villapiana. Luigi, abbiamo parlato di quello che ha fatto tuo nonno, di quello che ha fatto tuo padre, invece voi, la nuova generazione, ecco, cosa sta, come state procedendo? Con nuovi autobus, niente, e poi abbiamo creato questa nuova agenzia. Maria, invece il tuo ruolo è all'interno di questa agenzia? Allora, il mio ruolo, come magari uno si potrebbe aspettare, da amministratrice oppure altro, nell'ufficio, invece il mio ruolo è anche l'autista. E quindi tu ci sorprendi? Credo di sì, ma è un lavoro come tutti gli altri, e lo porto avanti con amore perché è tutto quello che ci ha lasciato nostro padre. Maira, a questo punto dobbiamo chiudere questa bellissima intervista con tutti i collaboratori, con la famiglia che ha creato questa... Travel City World! Viaggiamo insieme a te!